Per della Giovanna, che prova ad innescare lì davanti Ray Manai, alle sue spalle c'è l'inserimento, Ray Manai, mezzo a due, Manai, Manai, ancora lui, Manai fa tutto da solo, Manai! 1-1, 1-1 Inter! Lo rivediamo, il lancio in profondità ha fatto praticamente tutto da solo, se l'ha conquistato quel pallone, ha lasciato sul posto il primo avversario, ha arginato poi quella che era l'opposizione di Augero e poi con un tocco all'estato ha messo in fondo al sacco. Grazie per la visione!